In occasione della giornata internazionale della donna, che quest'anno compie 100 anni, perché fu istituita nel 1922, il Comune di Rimini ha voluto celebrare questo momento anche attraverso una premiazione, un premio riconoscimento dato ad alcune imprenditrici riminesi. Ci tengo particolarmente perché andiamo a celebrare e premiare delle donne che hanno saputo distinguersi nell'ambito delle imprese, in un ambito professionale che come sappiamo non è così scontato per le donne emergere. Tengo particolarmente a questa premiazione di oggi perché voi siete un esempio di donne che ce l'hanno fatta, di donne che hanno saputo portare avanti con forza e determinazione i loro progetti professionali e con questo 8 marzo l'amministrazione ha deciso di iniziare un percorso di riflessione che in particolare si concentrerà durante il mese di marzo quest'anno proprio per festeggiare questo centenario che è particolarmente significativo per noi ma che si svolgerà durante tutto il corso dell'anno quindi con iniziative, dibattiti, eventi culturali e non solo, proprio volti a stimolare il dibattito e la riflessione sul tema della parità di genere. Quindi insomma oggi il riconoscimento che vogliamo darvi non è solo per voi perché ve lo meritate ma è anche proprio per quello che voi rappresentate quindi siete un simbolo di forza, determinazione e capacità per le tante generazioni di giovani donne che vi guardano. Grazie. Grazie.